Circa 80.000 appartenenti alla famiglia della GESCI, associazione guide scout cattolici italiani, si sono ritrovati in una piazza San Pietro colorata di azzurro per l'incontro con il Papa. Francesco ricorda loro che sono una parte preziosa della Chiesa e che la fiducia riposta dei genitori nel metodo scout non va delusa. Ripetendo poi l'attenzione della GESCI nel campo della spiritualità e dell'educazione alla fede, prende spunto dalle parole del fondatore, Lord Powell, per sottolineare che l'insieme del movimento è basato sulla presa di coscienza di Dio. Importante poi l'invito di Francesco a restare sempre in contatto con la parrocchia, ad integrarsi nella pastorale della Chiesa, a non accontentarsi di essere una presenza decorativa la domenica o in occasione di grandi eventi. Sono certo che la GESCI può apportare nella Chiesa un nuovo fervore evangelizzatore e una nuova capacità di dialogo con la società. E questo mi raccomando, capacità di dialogo, fare ponti, fare ponti in questa società dove c'è l'abitudine di fare muri. Voi fate ponti, per favore. Ecco il dialogo, fate ponti. Grazie. 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 Grazie.